Un'importante tappa verso l'elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi. Neanche la pandemia blocca la voglia dei giovani studenti brindisini di essere protagonisti. Sorteggiati presso l'Aula Mario Marino Guadaluppi i nominativi per la costituzione delle liste elettorali dei candidati. 96 bambini e bambine, ragazzi e ragazzi candidati alla formazione del nuovo Consiglio Comunale. L'obiettivo è, sfruttando anche la tecnologia, di giungere nel mese di marzo all'elezione del nuovo giovane sindaco. I CSR si sono costituiti e si sono costituiti col voto digitale per evitare il passaggio di carte. Lo spreco e sosta sono stati proprio i ragazzi che ci hanno detto ma perché non votiamo sui tablet? Perché non facciamo? E allora c'è chi ha votato sul tablet e c'è chi ha votato online. Ci saranno due liste e in ognuna delle due ci saranno ragazzi di quarta, quinta, prima, seconda e terza media. Rappresenteranno tutte le scuole, ogni lista rappresenterà tutte le scuole, tutti i quartieri della città e poi a breve dovranno scegliersi il candidato sindaco, dovranno scegliersi il logo, dovranno tirare giù un programma e probabilmente entro marzo anche i ragazzi avranno il loro sindaco. Una bellissima esperienza, come anche abbiamo detto negli anni scorsi. Quest'anno ha maggior ragione perché tutti i bambini di tutte le scuole si sono misurati anche con modalità nuove dovute insomma al momento che stiamo vivendo e che nonostante tutto però hanno dimostrato lo stesso identico entusiasmo degli anni scorsi e la stessa voglia di partecipare anche dal loro punto di vista alla vita della nostra città.